Ma Bologna, ma buonasera! Volevo dire questa cosa alla fine, però la dirò all'inizio, perché è semplicemente la verità. È il palazzetto più bello che abbiamo in Italia. Bologna è il palazzetto più bello che abbiamo in Italia. Siamo molto contenti di essere qui questa sera, grazie a voi per averci permesso di effettuare questa data. Una cosa non poco importante, vorrei ricordarvi un vostro diritto, perché voi avete pagato un biglietto, avete preso la vostra macchina e siete arrivati fin qui, avete fatto una coda. Quindi io e i miei musicisti e tutte le persone che lavorano a questo tour per le prossime due ore saremo a vostra completa disposizione. Sfruttateci per piangere, divertirvi, ballare, fare quello che volete. Questo è il tour che non ha limiti, muri e barriere, quindi è il tour dell'Atlantico, di un oceano. E quindi della libertà, quindi veramente divertitevi, vi auguro un buon divertimento a tutti e grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti, grazie mille a tutti.